al primo vim on forum in italia a roma sisco è platinum sponsor vediamo dove si realizza il valore della relazione con questo vendor così innovativo sì certo vima per sisco è un partner di ecosistema nella proposizione data center è una partnership che si articola sia in termini contenuto che in termini proposizione il contenuto perché abbiamo una visione coerente di come deve evolversi l'architettura del data center secondo quali paradigmi e soprattutto per un utilizzo è un'evoluzione data center funzionale alle trasformazioni digitali che interessano profondamente il business il business e il mercato il mercato del business per quanto riguarda invece la parte di proposizione sisco ha soluzioni certificate con vim per ciò che riguarda le soluzioni backup con delle appliance che sostanzialmente sono basate sulla nostra proposizione di storage server e più recentemente per esempio il rilascio della nostra piattaforma di iperconvergenza sisco hyperflex è stata da subito certificata e validata per operare sia in termini backup che in termini replica e quindi di disaster recovery con la soluzione vim quindi una priorità nella sfruttare competenze e componenti specifici di vime di chi sa fare le varie parti di un data center e di una piattaforma digitale in modo da articolare una soluzione completa e sostanzialmente di essere allineati a quello che è un po il mantra della better together quindi riuscire a complementare una soluzione nel migliore modo possibile sfruttando competenze ottimali e componenti e funzionali ottimali ringrazio